Ciao, sono l'architetto Dario Fabris e oggi vi presento il progetto di Casa SV. L'appartamento, oggetto di intervento, è un quadrilocale composto da cucina, soggiorno e due camere, una singola e l'altra matrimoniale. Oltre ai vani principali sono presenti due bagni, uno patronale e l'altro di servizio. I vincoli presenti, oltre allo scarico dei bagni e alla posizione della canna fumaria, è la presenza di un setto portante tra soggiorno e cucina composto da mattoni pieni. Le richieste principali del committente erano quelle di mettere in relazione cucina e soggiorno e di realizzare una cabina armadio in camera da letto matrimoniale. La prima fase di progetto è stata quella di individuare il layout che assecondasse tutte quante le esigenze del cliente. Gli interventi principali si concentrano nella zona giorno, dove abbiamo demolito il tramezza che divideva ingresso e cucina e abbiamo realizzato due circhiature sul setto portante per mettere in relazione soggiorno e cucina. Come si può vedere dai rendering, questi interventi ci hanno permesso di avere una importante continuità visiva in tutta la zona giorno. In camera da letto, dietro la testata del letto, abbiamo posizionato una parete in cartingesso, dove si inseriscono le porte scrigno di accesso alla cabina armadio. Ecco alcune foto scattate in una fase avanzata del cantiere. Affrontiamo velocemente il tema impianti. Per quanto riguarda il riscaldamento, abbiamo utilizzato un impianto di riscaldamento a pavimento. Per quanto riguarda la rifrigerazione estiva, un impianto tradizionale con split e unità esterna. Ed ecco infine il risultato. Un grande open space in stile moderno. Al centro, una quinta muraria che accoglie la televisione e separa parzialmente soggiorno e cucina. A pavimento abbiamo utilizzato un rover naturale. Mentre per quanto riguarda la cucina, abbiamo inserito un inserto in grass effetto marmo calacatta. Le pareti pitturate tutte di colore bianco, ad eccezione delle pareti di accento, come una quinta che accoglie la televisione. Sulla parete dietro il letto abbiamo inserito una nicchia rivestita con un parquet. In bagno abbiamo utilizzato dei rivestimenti effetto pietra. In uno effetto marmo calacatta, nell'altro chara noir. Le pareti dietro i sanitari e dietro il lavabo sono state smaltate di colore grigio. L'illuminazione è di due tipi. Diretta, su tavolo e isola, con le lampadipendenti. E indiretta, con la strip led perimetrale a soffitto. Vi ringrazio per l'attenzione al prossimo progetto.